Allora, ormai sono passati 5 mesi da quando nella nostra vita è caduto tutto addosso a noi, insomma, no? Oggi potremmo dare un piccolo messaggio. In questi 5 mesi, diciamo che un po' la rabbia e tutto quello che avevamo dentro è andato un po' a scemare. Ehm, però questo qua naturalmente non ci dà nessuna motivazione per fermarci perché non ci fermeremo. In chi non sarà fatta giustizia? Giustizia perché i miei fratelli la meritano. Ehm, abbiamo fiducia nella magistratura e speriamo che ci aiuti per la verità. Venga presto a galla. Chi è che ha fatto tutto questo deve pagare. E confidiamo nella magistratura, negli avvocati, nella magistratura e speriamo che presto si hanno notizie. In più oggi abbiamo avuto un incontro con il nostro avvocato. Abbiamo dato nuove informazioni che serviranno per far uscire tutto a galla. Nel frattempo vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine. Naturalmente i nostri avvocati perché ci stanno sostenendo in tutto e per tutto e speriamo che la verità venga il più presto fuori. Perché lo meritiamo noi che stiamo soffrendo e lo meritano i nostri fratelli.